Buonasera e bentrovati con un'altra puntata. Buonasera e bentrovati con un'altra puntata. Buonasera e bentrovati con un'altra puntata. Sosteniamo le donne ormai da un ventennio. Nella forma giuridica dell'associazione no profit lo siamo dal 2006. Prima eravamo un gruppo di donne dal 99 al 2005 che appunto ci si adoperava sia in Friuli che a livello nazionale proprio per sostenere queste donne che all'epoca non avevano nessun tipo di attività di rete, di internet, di web, che oggi invece i social network e comunque la rete ci permette di essere molto più informati. Quindi comunque le sosteniamo nel loro percorso sia le donne sia le coppie con i loro compagni, i mariti sia le famiglie perché è una malattia che è una diagnosi tardiva che ancora va dai 5 ai 9 anni. E quindi queste donne vanno da un medico all'altro, da un ospedale all'altro senza purtroppo trovare una diagnosi ben definita. Non esiste ancora una cura definita per questa malattia e quindi diciamo purtroppo dobbiamo comunque conviverci. È una malattia cronica, è una malattia che può nella maggior parte dei casi ha dolori molto forti e parte dall'età fertile di una donna. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che andremo ad analizzare appunto nel dettaglio. Non a caso sei con noi per il mese di marzo, un mese particolare. Il mese dedicato, il mese della donna, il mese dedicato appunto dalla comunità europea proprio per essere il mese della consapevolezza sull'endometriosi. Quindi ci sono tutta una serie di attività che comunque anche se non sono in presenza purtroppo ai me per questa pandemia lo facciamo via rete. E la rete in questo momento è necessaria per divulgare comunque queste malattie, queste patologie che vanno a toccare la sfera intima di una donna. Proviamo ad entrare allora nel dettaglio. Che cos'è l'endometriosi? Allora l'endometriosi è una malattia che comunque parte dal tessuto dell'endometrio e parte come? Queste cellule impazzite escono da questo sito e emigrano, viaggiano in termini molto più semplici su altri organi. Ma cosa succede? Il tessuto dell'endometrio lo riconosciamo solo in quella parte all'interno dell'utero. Quindi queste cellule si trovano in un mondo che non è loro e attaccano altri organi, si appoggiano su altri organi creando dei problemi, oltre che infiammatori dei tessuti anche danneggiando gli stessi organi, quindi danneggiandoli nel vero senso della parola. Possiamo dire quindi che ci sono diverse sottocategorie dell'endometriosi a seconda di dove il tessuto dell'endometrio va a collocarsi. Sì, esattamente. E quindi se entra, diciamo, comunque si appoggia sull'intestino, interno ed esterno, sulla vescica, addirittura sui polmoni, addirittura sugli uretteri, sulle stesse ovaie, creando appunto delle anche formazioni, delle cisti, o addirittura questa malattia, essendo una malattia infiammatoria, quando la malattia è avanzata e per quello è necessaria una diagnosi, che noi ci stiamo battendo da anni, per una diagnosi precoce, va, come dire, in modo semplice, semplice, ad attaccare uno o l'altro questi organi che quindi poi creano ulteriori problematiche. Ecco, ulteriori problemi, ulteriori disagi, sicuramente la prima conseguenza dell'endometriosi è il dolore, un dolore molto forte che viene anche, diciamo, combattuto con degli antidolorifici importanti, no, a livello di dosaggio. E poi, ovviamente, ci sono tutte quelle problematiche che vanno a influire sulla vita quotidiana della donna, sotto tutti i punti di vista. Sotto tutti i punti di vista, non solo nel periodo del ciclo mestruale, perché comunque c'è un dolore, in alcuni casi, diciamo l'80% soffrono di dolori mestruali severi, all'incirca, perché non ci sono delle statistiche ben definite, Alice. E quindi questo, questa donna, queste donne purtroppo, si ritrovano con dei dolori comunque diversi una dall'altra. Una donna ha più dolori, diciamo, all'intestino, una donna ha più dolori a urinare. Proprio si entra in queste sfere molto intime, Alice. Noi stiamo parlando effettivamente di qualcosa di molto intimo, di molto personale. Però queste donne si ritrovano ad avere questo dolore in qualsiasi posto che loro vadano, al lavoro, a casa, nella vita sociale. Se riescono poi a portare avanti questo genere di attività, perché poi questo succede. A scuola ci sono ragazze che ci chiamano, e noi dal 2013, grazie alla legge del Friuli Venezia Giulia, la prima in Italia, un'Europa che ha dato voce, un pochino voce a questa malattia, a queste donne, che abbiamo reso consapevoli, queste ragazze, del problema anche del solo ciclo mestruale doloroso. Queste ragazze, che solo per il ciclo mestruale doloroso, devono essere assenti dalla scuola, dal lavoro. E quindi, perché lo fanno? Perché non ce la fanno più. E non solo quel dolorifico così forte, come dicevi tu, non è sufficiente. Devono rimanere assenti, o dalla scuola, o dal lavoro. A livello di diffusione, possiamo dare una stima approssimativa un po' di quelli che sono i dati? Perché parliamo, l'abbiamo descritta effettivamente come una patologia comunque importante, impegnativa, coinvolge, l'hai detto tu stessa, la vita delle studentesse, la vita delle donne, il lavoro, la vita sessuale, coinvolge davvero tantissimi aspetti del quotidiano, ma soprattutto una malattia molto diffusa. Sì, dai dati, dalla percentuale che c'è stata comunque ancora anni fa, indicata dalla comunità europea, ribadisco che non ci sono ancora dei dati ben definiti, comunque si parte dal 10 al 15%. Si è preso il 10% di percentuale. Tu pensa che solo in Friuli, Venezia e Giulia, in età fertile, datista, delle donne che sono in questa sfera, dai 15 anni ai 49 anni, sono in tutto 250.000. Se noi calcoliamo il 10% delle donne che possono essere affette da questa malattia, andiamo 25.000 donne, 26.000 donne affette da questa malattia. E sono molte, in Italia sono 3 milioni, quindi sono dei dati molto importanti. Per quello dobbiamo dare voce, Alice, e grazie di essere ospiti a questa trasmissione questa sera. Grazie. Sicuramente è importante parlarne anche da un punto di vista della consapevolezza, ma anche da un punto di vista della sensibilizzazione, perché credo che molto spesso si vada a minimizzare quello che è un mal di pancia, definito come un semplice mal di pancia, quando in realtà è qualcosa di completamente diverso. Senti, com'è l'approccio da un punto di vista medico, proprio sotto questo punto di vista? Viene minimizzato all'inizio? Parlavamo di diagnosi tardiva, mi parlavi di una diagnosi che può arrivare anche dopo 10 anni. Sì. Perché, com'è l'approccio con i medici? L'approccio con i medici non è sempre, come dire, così sereno, diciamo, perché comunque la donna si approccia appunto con il mal di pancia, come dici tu, che poi non è un mal di pancia, è un dolore all'intestino, un dolore alla vescica, viene scambiato, quel dolore viene scambiato per altre problematiche, e quindi diciamo che rispetto a quando trovarono dopo 20 anni, più di 20 anni, l'endometriosi a me, come a tante altre donne che purtroppo hanno subito questo calvario, ci permette, diciamo, è difficoltoso parlare di questo, perché l'approccio con il medico è sempre per quel mal di pancia, e quindi sono sempre, anche oggi, dopo tanti anni, sono sempre in difficoltà a spiegare l'approccio che hai con il medico, perché comunque è sempre un medico, è lo specialista, e comunque devi comunicare qualcosa che non sai, perché è una sfera intima, perché è un dolore che la donna comunque per nostra cultura deve sopportare, e quindi come ti approcci dopo anni che stai andando da un medico all'altro, e cerchi di spiegare a quell'essere umano che è di fronte a te, che cos'hai? E non è sempre semplice, quindi anche loro sono in difficoltà, io credo, però sono esseri in mani anche loro. Certo, sicuramente ci saranno dei ginecologi specializzati, Sicuramente, adesso sì, certo, certo, ci sono delle strutture più specializzate, che più tendono ad essere, come dire, sensibilizzate, e più ritengono l'endometriosi una malattia sicuramente da seguire. Abbiamo detto che purtroppo non si cura, no? Con una malattia cronica bisogna conviverci. Sì, esatto. Si può solo trovare il modo per diminuire il dolore, ma bisogna conviverci. Senti, da un punto di vista dell'alimentazione, appunto, c'è chi dice che un determinato tipo di alimentazione, quindi eliminare alimenti che possono essere degli elementi che vanno a infiammare il nostro organismo, può portare sollievo. È scientificamente provato? Allora, non è scientificamente provato, ma tu sai benissimo che comunque, a livello, io parlo a livello di altre malattie croniche, come possono essere malattie autoimmuni, o comunque gli stessi tumori, ci sono delle filosofie di pensiero da tantissimi anni che propongono l'alimentazione come un aspetto non di cura, ma di miglioramento di quel tipo di malattie infiammatorie. In questo momento ci sono linee di pensiero anche per l'endometriosi, che comunque ritengono, che fanno parte, diciamo, prendiamola con le pinze, di quella sfera di malattie croniche infiammatorie, che comunque possono essere aiutate, diciamo, quelle persone con un'alimentazione che possa appunto togliere, migliorare quell'infiammazione. Quindi ci sono nel nostro, diciamo, mondo associativo, ci sono donne che comunque seguono quel tipo di alimentazione e troviamo che ci siano dei benefici. Però ribadisco, non c'è nessun aspetto scientifico che ce lo sottolini. E allora, abbiamo spesso parlato di alimentazione con loro, ma quest'oggi con NaturaSì parliamo di biodiversità. Sentiamo il responsabile del progetto. Biodiversità, siamo con Fabio questa mattina, è una parola che sentiamo spesso, ma che cosa si intende nello specifico per biodiversità? Allora, la biodiversità è la diversità della vita in tutte le sue forme, quindi la diversità della vita sia animale che vegetale. La diversità la vediamo anche sotto forma di batteri, di vertebrati, di invertebrati, uccelli, ma anche piante, erbe e alberi. Ecco, e quanto sono connesse biodiversità e agricoltura? Non a caso quest'oggi ci troviamo nell'orto botanico di NaturaSì, qui a Conegliano. Sì, l'agricoltura ha un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità. Nel nostro pianeta la superficie è maggiore, diciamo, occupata dall'uomo e occupata dall'agricoltura e l'agricoltura è la prima causa di perdita di biodiversità al mondo. Ecco perché l'agricoltura deve farsi un po' carico di questo e cercare di convertire questo trend andando incontro, insomma, alla sostenibilità. Che cosa fa NaturaSì nel concreto, a partire dal campo, per sostenere la biodiversità? Nel concreto NaturaSì applica dei progetti per diversificare l'ambiente, quindi le aziende agricole più sono diversificate e più avremo ambienti diversi che vanno incontro alla biodiversità e crea quello spazio del 20% della superficie agricola dedicata alla fauna, con siepi, boschi, stagni, collegando l'azienda tra i vari ambienti appunto attraverso le siepi e le fasce tampone anche. Per esempio un progetto concreto sul miglioramento della biodiversità in ambiente agrario è stato portato avanti dall'azienda agricola Biodinamica San Michele dove appunto si è voluto strutturare l'azienda per favorire questa biodiversità attraverso queste siepi, boschi e laghi per appunto il 20% della superficie dell'azienda. Questo ci permette di avere anche un territorio in equilibrio e la vitalità della biodiversità si riflette poi nelle coltivazioni e quindi avremo prodotti sani che fanno bene al pianeta, fanno bene a noi e fanno bene alla terra. Ovviamente ciascuno deve fare la sua parte, quindi qual è il ruolo del consumatore? Il consumatore è un ruolo fondamentale in quanto la scelta consapevole di ognuno di noi nel piccolo quotidiano può cambiare veramente le cose a livello anche mondiale. Le scelte di acquisto vanno incontro diciamo a quello che si riflette poi nell'agricoltura quindi più noi siamo consapevoli del bisogno di aumentare la biodiversità più andremo a scegliere quei prodotti che rispecchiano questo e che quindi ci permettono di conservare l'ambiente anche agricolo. E allora quello che ci dobbiamo chiedere a questo punto è che cosa si fa ad oggi per questa patologia? Allora siamo partiti diciamo con la legge come dicevo prima la legge 18 del 2012 in Friuli, Venezia e Giulia è la prima legge che non stabilisce la nostra legge è stata pioniera da questo punto di vista esattamente sia a livello nazionale che europeo pensa che forti che siamo e diciamo abbiamo dato voce diciamo in modo parziale ma creando appunto sensibilizzando attraverso una legge a livello regionale nazionale europeo e quindi dando la possibilità comunque anche all'associazione di entrare comunque negli istituti scolastici istituti superiori adesso scuole secondarie che possono essere una modalità di informazione sia sul ciclo mestruale e sia sull'endometriosi come dicevamo prima abbiamo diverse volte appoggiato tantissime altre regioni in Italia per procedere appunto alla delibera di queste leggi nelle regioni stesse come la Puglia, la Sardegna e tante altre poi abbiamo partecipato e stiamo partecipando però in questo momento è tutto fermo il DDL nazionale 888 diciamo come dire proposto dal Senato nel 2019 e quindi questo facciamo questo oltretutto come associazione creiamo attività di informazione attraverso appunto gli istituti scolastici quando si potrà ritornare negli istituti scolastici in presenza poi attraverso congressi formativi per i medici diciamo incontri per la popolazione adesso colgo l'occasione per presentare un webinar che proprio presenteremo il 5 marzo 2021 il prossimo venerdì che parlerà appunto una diagnosi precoce attraverso l'ecografia di secondo livello è molto importante far sapere alle persone che l'ecografia di secondo livello effettuata da persone da specialisti formati è molto importante e riesce a trovare se un medico specializzato è formato attraverso questa ecografia di secondo livello a trovare appunto l'endometriosi e quindi a verificare anche che l'adenomiosi l'endometriosi si dice ma non è certo che sia l'endometriosi all'interno dell'utero e che quindi non permette anche di come dire faccio questa postilla di avere sicuramente di avere una certezza a livello come dire di avere una gravidanza sicura perché l'endometriosi certamente perché succede che all'interno dell'utero con l'adenomiosi si spessisce questo tessuto e quindi non permette l'attecchimento di quello che è la placenta di tutto quello che è quel tessuto che poi forma il bimbo in per sé e quindi il 5 marzo in diretta Facebook sulla nostra pagina endometriosi FVG ci trovate alle ore 18 per far sì che ci siano questi professionisti che ci spiegheranno perché l'ecografia di secondo livello poi colgo l'occasione anche per raccontare che il mese della consapevolezza avremo la possibilità di illuminare attraverso istituzioni e enti un monumento questi monumenti saranno colorati di giallo in modo di dare luce come ci sono in questi anni diciamo un colore dedicato per ogni malattia noi abbiamo il giallo e quindi andremo a illuminare sia il Friuli Venezia Giulia e tutta l'Italia con questo colore in special modo il 9 marzo che è la giornata nazionale dell'endometriosi oltretutto la giornata dedicata alla ricerca poi ci sarà anche la giornata del 27 marzo che è la giornata dedicata a livello internazionale dedicata all'endometriosi bene quindi tutta una serie di belle iniziative per sensibilizzare e soprattutto per conoscervi quindi qualora qualche donna ancora avesse dei dubbi avesse bisogno di alcuni consigli di essere seguita in questo percorso può rivolgersi a voi io Sonia ti voglio fare ancora una domanda ci sono degli aiuti non parlo solo di aiuti economici parlo anche di aiuti a livello psicologico perché effettivamente abbiamo citato tantissime conseguenze tra le quali l'hai citata tu stessa poco fa la difficoltà a intraprendere una gravidanza quindi la diminuzione della fertilità una cosa che incide fortemente sulla psicologia diciamo poi del soggetto che è affetto dalla patologia ma per quanto riguarda invece gli aiuti economici vorrei con te cercare di risolvere una questione abbastanza complicata perlomeno cercarla di capire certo perché per poter ottenere l'esenzione è necessario avere una patologia che si dimostri essere al terzo o quarto stadio piccolo problema come si fa ad accertarlo solamente attraverso l'operazione e quindi l'istologico che lo confermi esattamente quindi una donna sostanzialmente deve sottoporsi all'operazione a prescindere esattamente esattamente purtroppo allora devo dire Alice che questa comunque è stata come dire un grosso salto in avanti anche se come dire non è proprio corretto quello che è stato approvato è un po' difficile parlarne però cerchiamo di spiegarlo quindi cosa succede che in Italia hanno deciso per definire questa malattia in quattro stadi c'è il primo, il secondo, il terzo e quarto purtroppo non è definito comunque il dolore di una persona che viene definita il secondo stadio può essere comunque molto forte però i parametri con cui viene definito sei terzo o quarto noi purtroppo non siamo medici oltretutto neanche tutti i medici non sono sicuri di come dire di dare di indicare questi stadi ci sono alcuni medici tuttora ma non solo in Friuli anche a livello nazionale che pur di non sbagliare non indicano questo stadio quindi la donna non riesce ad, come dire, ad appropriarsi di quell'unica esenzione che può di suo diritto di legge dal 2017 grazie a ILEA inserito, hanno inserito appunto, al rinnovo di ILEA hanno inserito anche le endometriosi e quindi c'è la possibilità nel terzo e quarto stadio, che è una parola molto così come dire, queste parole molto strane sempre dei numeri in cui veniamo identificate molto vaghi diciamo anche esattamente che poi non è detto che queste donne purtroppo abbiano questa definizione comunque con il codice 063 avremo l'esenzione che ci porta a sottoporci ad un'ecografia ogni sei mesi gratuita che quindi poi ci permette appunto di avere l'esenzione quindi la persona, la donna, non deve sbursare questi soldini dal suo portafoglio in questi momenti anche un po' difficili in questa esenzione cosa c'è anche? c'è il clismo opaco che viene fatto solo, sottoposto solo in casi ben precisi e solo nel caso in cui ci sia l'endometriosi all'esterno per verificare che ci sia all'esterno l'endometriosi appunto in questo tessuto dell'intestino e poi un esame del sangue il CA 025 che però abbiamo appurato anche dalle nostre indagini però sono solo delle indagini non scientifiche ma indagini come dire di mappatura dei territori che solo il 50% di quelle donne che ha eseguito quel determinato esame CA 125 è risultata positiva al 50% le altre 50% sono negativi sebbene comunque avessero l'endometriosi quindi effettivamente come hai capito siamo in un mondo veramente difficile in un mondo dove c'è bisogno di chiarezza e facciamo appello appunto grazie a te Alice che diamo la possibilità con queste trasmissioni di creare come dire di far sì e di divulgare che è ancora difficile trovare comunque una diagnosi precoce e una come dire dare veramente voce a tutte queste donne alle coppie e alle famiglie stesse che si trovano per anni e anni e comunque anche dopo aver trovato diciamo come dire voce nella diagnosi le difficoltà nella vita nella sua interezza perché parliamoci chiaro la vita poi non è nell'ospedale non è diciamo come dire a casa quando non ce la fai più e ti metti a letto sul divano assolutamente nel quotidiano allora Sonia la prima occasione per fare tutto questo e quindi con il vostro webinar ricordiamo l'appuntamento prima di salutarci il 5 marzo ore 18 in diretta sulla pagina facebook ribadiamo che ci saranno altri diciamo appuntamenti nell'arco di tutti questi mesi con degli appuntamenti davvero interessanti e con specialisti a livello nazionale regionale, nazionale e internazionale e troverete sicuramente tutte le informazioni sulla loro pagina facebook Sonia io ti ringrazio tantissimo per aver cercato di chiarire un po' questa tematica complessa per averci portato il problema qui su dinese tv spero di rivederti presto e speriamo che le cose la prossima volta che ci vedremo saranno gestite saranno diciamo migliori da questo punto di vista grazie mille Sonia Manente grazie grazie di nuovo grazie per questa trasmissione e speriamo insomma che vada tutto per il meglio anche per la pandemia e grazie a voi per averci seguito e ci vediamo presto con una nuova puntata di salute e benessere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti